Buon pomeriggio a tutti, grazie di essere qui. Mi spiace, ci dispiace vedere persone in piedi perché purtroppo le sale sono quello che sono, però siamo particolarmente felici di vedere tanta partecipazione al nostro festival. Io rubo solo qualche minuto per presentare, anche se non credo che ce ne sia bisogno, il professor Aldo Alessandro Mola che fu già preside di liceo, docente a contratto di storia contemporanea all'Università Statale di Milano e che dal 92 è contitolare della cattedra Theodor Feregen dell'Università Libera di Bruxelles. Il professor Mola è sicuramente il più noto e riconosciuto storico della massoneria in Italia, al cui studio ha dedicato moltissima parte della sua ricerca e davvero numerose pubblicazioni, tra cui dobbiamo ricordare almeno due opere essenziali. La monumentale e fondamentale storia della massoneria italiana dalle origini ai giorni nostri che ha avuto una prima edizione nel 1976 e una seconda nel 92 per Bonpiani e il più recente storia della massoneria in Italia dal 1717 al 2018. A me non resta davvero che ringraziarlo per aver accettato il nostro invito, per averlo di nuovo qui presto ed essere qui ad ascoltarlo a parlare di massoneria tra storia e mito. Grazie ancora. Grazie. 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 condizioni storiche, assume tonalità e caratteri requisiti specifici. Io qui cercherò di riferirmi essenzialmente al caso Italia. Non dimentichiamo inoltre che quando si parla di massoneria, bene, ci si riferisce a un ordine iniziatico, quindi non è una mera associazione, ma è un ordine, il quale ha al proprio interno una molteplicità di riti. È vero, come tutti quanti loro mi insegnano, che la massoneria prevede tre gradi per la propria identità e per la propria formazione e per la formazione degli adepti o degli iniziati, cioè l'apprendista, il compagno e il maestro. Ma poi esiste una molteplicità di riti i quali a loro volta non hanno una identità nazionale o statuale o riferita a un preciso territorio, ma hanno una organizzazione propria anche di carattere sovranazionale, di carattere anche universale. Quelli più noti possono essere per esempio il rito scozzese, antico e accettato, sulle cui origini si è discusso e si continua a discutere molto e che comunque rappresenta molto bene appunto una colleganza che vaga dall'uno all'altro paese attraverso i tempi con particolare significato e particolare rilievo per quanto riguarda poi la storia delle singole comunità libero muratorie o massoniche. E oltre alla molteplicità dei riti occorre anche avere presente il legame, la corrispondenza che esiste tra la massoneria come istituzione e tutte le varie discipline che in qualche modo afferiscono alla figura molteplice, come ho già detto, della massoneria e cioè quindi la filosofia, pensiamo alle opere classiche, la filosofia della massoneria, la scienza, le arti, dall'architettura a tutte quelle peculiarità succedanee dell'architettura medesima, insomma ci troviamo dinanzi a una realtà estremamente complessa. Quando io dico che mi voglio riferire al caso Italia faccio caso su una realtà territoriale recente perché lo Stato italiano è tra quelli più giovani rispetto a tutti gli altri casi anche già solo europei di Stati. Pensiamo che la Grecia ha una realtà statuale più antica rispetto all'Italia, per non parlare naturalmente del Belgio, Paesi Bassi, Francia, Spagna, Gran Bretagna, la Germania non aveva un'identità statuale ma aveva una ricchezza e unitarietà di carattere culturale, linguistico e così via. Per il caso dell'Italia l'arrivo delle logge massoniche va a creare una complessità che caratterizza subito la difficoltà che trovano i massoni a operare in questo territorio che va dalle Alpi alla Sicilia e che era frammentato in una serie di dominazioni che vedeva quindi l'influenza degli stati esteri come presenza di carattere politico e religioso in un quadro che è quello post-tridentino, cioè all'indomani del concilio di Trento per il quale naturalmente ogni tipo di devianza o di marginalità rispetto all'ortodossia cattolica era considerato un peccato grave, era considerato eresia. Bisogna aver ben presente questa caratteristica, questa peculiarità per comprendere le difficoltà che incontrarono i massoni nel del settecento italiano che tuttavia è una fase particolarmente ricca di presenze che fanno della massoneria una realtà policentrica. La massoneria di Napoli, pensiamo alla figura di Raimondo Sangro di San Severo, non ha quasi nulla che vedere con la massoneria del regno di Sardegna o di quella del Granducato di Toscana che si trova a essere assegnato a Francesco Stefano di Lorena che è massone ma che per quanto riguarda la Toscana alza le mani e lascia che siano altri a occuparsi realmente dei rapporti tra logge e potere statuale. Allora quindi c'è la frammentazione della realtà politica per cui le logge sono considerate anche quando non lo sono ma non è che non lo fossero mai uno strumento di penetrazione politica dei paesi di provenienza, questa è la realtà storica a lungo indagata e consegnata un'opera importantissima da Carlo Francovic che ha studiato molto bene la massoneria del 1700 e poi la grande difficoltà che incontrano i massoni in Italia è proprio quello del rapporto con la chiesa cattolica che era l'unica chiesa possibile in Italia nella realtà post-tridentina come già ho accennato e per ragioni di carattere politico e religioso dal 1738 la massoneria in Italia si trova a fare i conti con la scomunica combinata da Papa Clemente XII nei confronti di quanti partecipano alle riunioni dei massoni. Non è specificato il motivo per il quale sono scomunicati ma è evidente un fatto che la struttura ecclesiale dal pontefice che ha autorità indiscutibile e somma sino all'ultimo dei paroci ritengono che coloro i quali si radunano senza la presenza avallante del sacerdote è una riunione non autorizzata e quindi considerata peccaminosa quindi è molto semplice apparentemente complesso la ragione ma al tempo stesso estremamente semplice cioè extra ecclesiam nulla salus punto e a capo cioè quindi si è discusso si è indagato a lungo su quali potessero essere la ragione era di carattere istituzionale e di carattere fondamentalmente politico che non impediva a tanti ecclesiastici di essere iniziati in loggia con mio carissimo amico José Antonio Ferrer Benimeli gesuita spagnolo abbiamo condotto parecchie ricerche per il caso Italia ma anche per gli altri paesi Francia Spagna e così via l'impero asburgico là dove si poteva naturalmente anche i paesi dell'Europa settentrionale gli ecclesiastici iniziati in loggia erano nel 700 non meno di 5000 parliamo di ecclesiastici noti e quindi figure anche autorevoli che potevano anche essere il vescovo che potevano essere insomma figure di spicco e di prestigio c'erano logge che riunivano in certe situazioni addirittura parecchi ecclesiastici quasi esclusivamente ecclesiastici faceva parte tutto questo di un movimento che è di base e che è un movimento di ricerca all'interno delle scienze delle diverse discipline si percepisce la necessità di guardare oltre i confini che sono consentiti a chi non è alfabetizzato o a quelli che appena appena sono alfabetizzati e si cerca qualche cosa al di là ecco per cui troviamo in Austria il vescovo di Salisburgo che è in loggia e che maltratta il fratello Wolfgang Amadeus Mozart che a sua volta è massone ma che non ha la dignità dell'arcivescovo il quale lo caccia da davanti a sé è una realtà allora estremamente composita il punto di svolta è il 1700 più che 89 1792 quando nel processo della rivoluzione francese gira volta o per qualcuno degenera nella nelle grandi stragi di Parigi che hanno come propria vittima una serie di massoni illustri sia condannati a morte sia semplicemente eliminati fisicamente tra questi vorrei ricordare perché particolarmente meritevole di memoria la principessa di Lambal che era una principessa di casa Savoia che viene linciata dalla folla squartata le viene spiccata la testa dal collo poi viene rapidamente ripulita dal sangue e la testa viene portata sotto la finestra di Maria Antonietta come presagio della sorte che la attende. A parte il caso della principessa poi abbiamo una serie di massoni illustri che vengono ghigliottinati condorse e così via eccetera molti di quelli che erano stati iniziati che facevano parte della loggia le nove sorelle nella quale pochi mesi prima di morire venne iniziato anche Voltaire che si ricongiunge quindi a quel grande movimento di enciclopedisti che avevano dato il via a questa opera di ricognizione di assemblamento di tutto il sapere in un'opera che potesse fare da viatico per decenni e i secoli successivi. La rivoluzione viene interpretata da alcuni autori come frutto di una macchinazione massonica. Si ignora quello che è la massoneria inglese là dove nasce nel 1717 24 giugno giorno di San Giovanni la gran loggia di Londra che viene formata da quattro loggie quindi i massoni c'erano e danno vita alla massoneria moderna poi normata dalle costituzioni di Anderson del 1722 pubblicate nel 1723. Le interpretazioni della rivoluzione prescindono come ho detto dal caso britannico e si fermano sul caso della Francia. Come mai tutto questo sconquasso? Secondo l'abate Lefranc e poi secondo Agostino Baruel tutto è nato dalla massoneria. Ma che cosa è la massoneria? Non è un'organizzazione semplicemente come noi la vediamo, dicono Baruel e Lefranc, ma è in realtà un artificio che è stato concepito, realizzato, organizzato per continuare un processo rivoluzionario, un processo di lotta che affonda le sue radici nel tempo remoto e Baruel dice fate caso 1717 due secoli dopo la protesta di Martin Lutero, 1517. Poi aggiunge naturalmente prima ci sono i sociniani, ci sono gli eretici, ci sono quelli che attraverso l'umanesimo e il rinascimento corrompono la cultura. Alle spalle delle logge massoniche ordinarie ci sono le arrière loge, le logge retrostanti, le logge segrete, quelle dominate dai filosofi i quali continuano a operare quel grande disegno rivoluzionario che affonda le sue radici nei bogomili, nei catari, andando sempre più indietro nel dualismo manicheo e lì la radice vera della massoneria è quella dottrina che contrappone la luce alle tenebre e che in realtà è quindi semplicemente una manifestazione di satana. messa così la cosa è chiaro che per i massoni era un po' complicato mostrarsi in pubblico. Fortunatamente per loro, e parlo del caso Italia sul quale quindi ritorno, all'indomani della fase più tragica della rivoluzione francese c'è la restaurazione del termidoro e poi l'età napoleonica. di quel Napoleone che non sappiamo se sia mai stato iniziato in loggia, a riguardo c'è una bellissima opera di François Collaverie che concorsi a tradurre in Italia, nel quale si fanno varie ipotesi di iniziazione di Napoleone. Probabilmente non è mai stato iniziato, a differenza di tutti i suoi fratelli di sangue, cioè Giuseppe il Maggiore che è anche gran maestro del Grand Oriente di Napoli, poi gran maestro del Grand Oriente di Francia e di passaggio anche del Grand Oriente di Spagna perché via via che si muoveva da sovrano creava appunto questa struttura. Lo erano i fratelli minori di Napoleone così come lo erano la maggior parte dei marescialli di Francia, dei grandi ammiragli, dei prefetti, dei maires, delle grandi città e lo era anche l'arci cancelliere dell'impero Cambasseres che presiedeva il Consiglio Supremo dei Riti in modo che ci fosse l'ordine e che nel suo ambito i riti non litigassero. erano in particolare il rito francese e il rito scozzese. Il rito scozzese che è particolarmente importante per la storia della massoneria in Italia perché il suo supremo consiglio per l'Italia o Anne Italie viene costituito a Parigi il 16 marzo 1805 per creare la classe dirigente, un corpo di persone colte che dovrà prendere cura del vicere d'Italia, Eugenio Boarnet, 24enne, catapultato a fare il vicere a Milano e che si troverà assistito nella sua opera da un numero significativo appunto di massoni a cominciare dal principe dei costituzionalisti italiani e cioè Gian Domenico Romagnosi. Allora nel periodo napoleonico noi vediamo che la massoneria malgrado le contumeglie di cui abbiamo detto prima risulta assolutamente pacifica e pubblica e l'unica stagione nella quale i massoni possano dichiarare formalmente la propria appartenenza senza rischiare niente. 1805-1814 per nove anni la massoneria è accettata, è accettata al nord, è accettata a Roma, tra l'altro Napoleone conferisce il titolo di re di Roma al figlio che è Francesco Carlo Napoleone Leglon, detto Napoleone II, è accettata a Napoli dove, come ho detto prima, c'era Gran Maestro Giuseppe Bonaparte e al quale subentra Gioacchino Murat, cognato di Napoleone, massone a sua volta. E la massoneria in quel periodo viene a contare in Italia circa 20.000 affiliati, 20.000 su un'esigua parte di italiani alfabetizzati, quindi bisogna capire percentualmente che cosa significasse in quella stagione le loggie, le quali con il 1814, con la restaurazione, semplicemente scompaiono, non esistono più. Ma, come generalmente ricordo, non c'è una epidemia che fa morire i massoni. I massoni continuano a esistere e continuano a, virgolette, servire gli stati occupando posizioni di rilievo nelle accademie, nella struttura pubblica, nelle forze armate dei singoli paesi. Perché cercano di salvaguardare quella che è la vocazione originaria dell'ordine, che sono sostanzialmente due caratteristiche. Uno, la elettività alle cariche. due, la temporaneità dell'occupazione delle cariche, che sono classici della vita delle logge. E cioè, si viene eletti maestro venerabile, i quali poi eleggono il gran maestro, e la durata in carica è per tot tempo, non è a vita. Per cui c'è un continuo dialogo, ecco, l'essenza della massonese è questo triangolo. Il massone non è solipsistico, si realizza all'interno della loggia, quindi c'è un continuo scambio, si stimola il confronto, confronto che non si limita ai confini territoriali del paese, ma si apre anche al di là dei confini medesimi. È una internazionale, in un periodo nel quale si stanno formando gli stati nazionali. Ecco che veramente c'erano tutti gli ingredienti per essere scomodi. Non si impone una confessione religiosa, nelle logge ci si trova al di là dei problemi religiosi e o statuali, politici, politico-partitici, ma al tempo stesso si mira a un obiettivo fondamentale, che è quello della formazione dell'uomo attraverso l'educazione. E l'Ottocento, il secolo della pedagogia, saltando a piepari un lunghissimo periodo di tempo, perché il tempo mio a disposizione vola, noi ci troveremo dal 1860, c'è un vuoto, 1814-1860, dal 1860 ci troviamo dinanzi alla organizzazione di un grande oriente, anche in Italia, che fatica moltissimo a strutturarsi, il quale si pone innanzitutto un quesito, saremo grande oriente italiano o grande oriente d'Italia. È una questione che viene affrontata nell'Assemblea di Firenze del 1863 e viene posta da Celestino Peroglio, grande filosofo oltre che gran maestro del grande oriente, il quale spiega che non è una questione filologica, non è una questione così marginale, è una questione di sostanza, il grande oriente italiano vuol dire che appartiene a una realtà universale, il grande oriente d'Italia vuol dire che ha la sua ragion d'essere nel paese Italia, il quale paese Italia nel 1863 o 1861 era lontanissimo da essere l'Italia così come era stata sognata da quanti sulla fine del settecento avevano cominciato a immaginare la coincidenza, la corrispondenza tra i confini politici e quelli geografici. Il grande sogno attribuito a Dante, che in realtà la pensava in modo del tutto diverso ma questo non c'entra. diciamo che nasce questo mito di Italia unita che in quel momento, 1261 e seguenti, fino a 66, fino a 70 ancora non c'è. C'è nella immaginazione di uno che massone non era, cioè Camillo Benso Conte di Cavour, il quale vaticina l'esistenza di un regno italiano con capitale Roma e lì interpreta esattamente il pensiero libero muratorio. Mentre, come ho già detto prima, la massonella fatica parecchio a darsi una struttura unitaria. Ci sono diverse realtà. Il Grande Oriente d'Italia, poi un'altra organizzazione guidata dall'arciprete Domenico Angherà, massone di straordinaria generosità, ecclesiastico era, come ho sottolineato, che riesce a portare in loggia anche molti significativi rappresentanti di paesi stranieri. Penso per esempio al che divede Egitto. E qui c'è un legame che affonda le sue radici nella visione del Mediterraneo come luogo di incontro di culture che non si limita quindi alla realtà di metà ottocento quando il Mediterraneo diventa in realtà obiettivo di mire predatorie da parte degli stati principali che si sta aprendo il canale di Suez e quindi sono tutti gli interessi che vanno e vengono. Ma ci si rifà all'antichità classica, al periodo soprattutto greco e quindi a una congiunzione tra il mondo ellenico, quello dell'Egitto e quindi tutta l'evocazione di Cagliostro, Rito Egizio e così via per arrivare poi naturalmente alla realtà degli anni 60. Tutto questo non può non determinare, intendiamoci bene, non può che causare una ulteriore condanna da parte della Chiesa. È così, è un fatto. Anche perché per non farsi mancare niente i massoni non prendono sufficientemente le distanze dai due fondamentali momenti di anticlericalismo virulento che si realizzano in Italia nel periodo al quale sto accennando. Un anno dopo la convocazione del concilio vaticano, concilio ecumenico vaticano primo, viene convocato in Napoli, che era la città più popolosa, più importante e più significativa d'Italia, un anticoncilio vaticano che raccoglie l'adesione di tutti i satanisti, tutti i militanti anticlericali d'Europa. È una manifestazione di enorme interesse. Chi non può venire naturalmente manda, naturalmente spicca tra tutti Giuseppe Garibaldi, primo massone d'Italia, veneratissimo come gran maestro ad Vitam, era stato iniziato, come tutti bene ricordano, nel 1844 a Montevideo, nella loggia La Patrie, che era l'obbedienza del Grande Oriente di Francia, dopo essere stato in una loggia cosiddetta selvaggia, e poi Victor Hugo, e poi tutta una quantità di anticlericali inglesi, tedeschi e così via. Questa è una manifestazione evidentemente non gradita, mettiamola così. E poi l'anno dopo Portapia. A Portapia i massoni praticamente non ci sono. Nino Bixio, che era massone, viene messo nella retroguardia, entrerà per ultimo. Il primo che entra in Roma è Raffaele Cadorna, che era un cattolico, devotissimo, eccetera. Si cerca di evitare il conflitto ideologico con il Pontefice. Anzi, si cercano soprattutto le mediazioni sul terreno più, diciamo, propizio a intese. Per esempio il controllo delle aree fabbricabili, tutta una serie di convergenze che aiutano ad avvicinarsi nel rispetto reciproco. La legge delle guarantige del 71 garantisce al Pontefice la segretezza della corrispondenza, la possibilità di avere ambasciatori presso la Santa Sede e quindi di essere riconosciuto sovrano. L'Italia non lo riconosce, ma ci sono vari stati italiani che invece ritengono che il Pontefice sia anche sovrano temporale. Non solo, ma la Spagna gli propone anche di trasferirsi completo di collegio cardinalizio in Spagna. Così come era andato una volta ad Avignone, potrebbe benissimo andare in Andalusia o da un'altra parte. Bene, tutto questo aiuta a capire per quale motivo c'è questa frattura non valicabile tra la chiesa di Pio IX di Leone XIII che nel 1884 pubblica la Humanum Genus che è un documento di condanna totale nei confronti della massoniera. Il Papa dice io non metto in dubbio che ci siano dei massoni per bene come cittadini in buona fede che sono entrati in loggia, ma sono entrati non sapendo che in realtà dietro alla loggia ci sono quelli che manovrano, ci sono quelli che usano la struttura per demolire la chiesa. E' un po' la teoria di Baruel che come viene definita alla fine la loggia e la massoneria è la sinagoga di Satana. E questo è un passaggio dal punto di vista terminologico significativo perché si mette insieme la offensiva contro la massoneria e quella contro l'ebraismo come mandante occulto della massoneria. Perché sì, ecco, nei riti sono presenti tanti riferimenti al mondo ebraico. Vuol dire che c'è il nemico. Ma il nemico, pensiamo al problema che aveva lo Stato pontificio che era indebitatissimo con i Rothschild che l'avevano mantenuto, che avevano fatto larghissimi prestiti. Però questo non entrava nelle grazie dei polemisti i quali trovavano invece molto comodo fare questa opera di propaganda netta antimassonica. Si trova a operare dunque la massoneria in Italia in una situazione oggettivamente difficile. Recluta, cioè nel senso che inizia e fa crescere al proprio interno una classe dirigente estremamente significativa. Due o tre nomi fra i molti. Francesco De Sanctis, il grande storico della letteratura italiana. Michele Coppino, l'artefice della istruzione elementare, obbligatoria e gratuita. E potremmo continuare a lungo. Ferdinando Martini, ideatore dell'enciclopedia italiana e così via. Grazie anche e soprattutto a una figura influentissima all'epoca ma poi dimenticata, Adriano Lemmi, gran maestro che è a contatto continuativo con Francesco Crispi, presidente del Consiglio, al quale si deve il governo che vara il nuovo codice penale con il ministro di grazia e giustizia Giuseppe Zanardelli che è l'artefice di questo codice penale che conferisce all'Italia un primato mondiale, la abolizione della pena di morte, che è un'idea che arriva esattamente dalle logge liberomuratorie italiane e che, ripeto, è una posizione di assoluta avanguardia. Si capisce che nei confronti di quel mondo quanti erano i massoni all'epoca? Dai calcoli che ho avuto modo di compiere pazientemente, non più di 5.000. Pochi dunque, però compatti. Allora nei confronti di quel mondo si scateneranno una serie di offensive sintetizzando. Anzitutto la polemica secondo la quale la massoneria è in realtà uno strumento dell'internazionale, di un'internazionale misteriosa che comunque lede gli interessi della patria italiana. Questo è un tema che si affaccia fino all'Ottocento e che verrà poi ripreso soprattutto dai nazionalisti. Il secondo argomento è che la massoneria è empia, è ateistica, vuole l'abolizione dell'insegnamento della religione nella chiesa, nella scuola elementare, obbligatoria e gratuita e tutto questo si sublimerà nel 1908 in un dibattito proposto da Leonida Bissolati che non era massone proprio per vietare l'insegnamento del catechismo. E poi secondo i socialisti la massoneria è la quinta colonna della borghesia. Quindi bisogna cacciare i massoni dalle sezioni del partito perché sono gli alfieri del riformismo mentre noi vogliamo la rivoluzione. Questo è un percorso che va avanti da fine Ottocento, prima, fino al 1912 quando i riformisti vengono cacciati dal partito socialista e cioè Bonomi, Bissolati, Cabrini e altri e si organizzeranno come partito socialista riformista. A cacciarli e poi a ottenere la espulsione dei massoni dal partito è un certo Benito Mussolini che in quella fase è repubblicano, socialista, rivoluzionario e quindi ritiene che non ci possa essere nessun dialogo con i massoni. Posizione analoga a quella che era stata tenuta in quegli stessi anni dalla idea nazionale che era clericale e fanaticamente nazionalistica e quindi l'opposto dei socialisti ma convergeva con i socialisti massimalisti nell'odio nei confronti dei massoni. L'inchiesta sulla massoneria lanciata dall'idea nazionale nel 1912, 1913 e un vero e proprio plebiscito antimassonico raccolgono alle domande la massoneria ha ancora senso in Italia eccetera eccetera, raccolgono l'adesione di personalità estremamente significative dell'epoca. Luigi Einaudi dice, scrive, di non aver mai conosciuto niente di più ridicolo e camorristico della massoneria. Insomma era quella stessa massoneria che stava costruendo la società civile, era la massoneria di Ettore Ferrari, di Ernesto Nathan, sindaco di Roma, non era una massoneria di perdigiorno o di criminali, era una massoneria che stava, ripeto, lavorando per mettere in piedi una Italia alfabetizzata, civile, basata sulla educazione. Però le risposte che vengono date sono quelle. Benedetto Croce risponde alla inchiesta dell'idea nazionale, dicendo ma io ho già detto tutto, i massoni credono nella pace universale, hanno una cultura da maestruccoli elementari, ottima per bottegai. Beh veramente della massoniera hanno fatto parte personalità come Goethe, Fichte e una serie di altri personaggi che non si può dire che fossero maestruccoli elementari e poi maestri elementari bisognava pure rispettarli. Era giusto il periodo nel quale l'Italia stava puntando alla valorizzazione degli segretari comunali, degli impiegati, dei medici, delle strutture persino delle farmacie che erano fondamentali e tutto questo non poteva essere guardato né può essere guardato con altezzosità e liquidato come un episodio qualunque. Ecco però questa lotta così feroce contro la massoneria mette all'angolo la libera muratoria negli anni proprio di inizio novecento che sono quelli che alla fine precipitano nella conflagrazione europea dell'estate del 1914-1915 e si protrae per più di 40 mesi fino al novembre del 1918, quando anche le strutture massoniche, le diverse comunità si, tra virgolette, nazionalizzano, aderiscono cioè alle direttive dei governi. Lo ha studiato molto bene Yves Iver Messeca in un bellissimo volume, Iram o Bellona, cioè la scelta tra quelli che erano i principi costitutivi originari, la fratellanza universale, il dialogo e così via, quello che era il vaticinio di un mondo in pace, non solo di un'Europa in pace, ma di un mondo in pace, viene emarginato e fatalmente anche, esattamente come accade per la Chiesa Cattolica, c'è la nazionalizzazione delle coscienze. È una fase particolarmente, Rucet, 1914, diciamo, ci porta a un secolo dopo a vedere situazioni non troppo diverse, la nazionalizzazione delle coscienze, dalla quale l'Italia uscirà attraverso un lavoro impegnativo di riorganizzazione anche delle comunità liberomuratorie. Grande Oriente d'Italia e la serenissima Gran Loggia d'Italia che nel frattempo era nata per gemmazione del supremo consiglio diritto scozzese antico e accettato e aveva dato vita, luogo, a una Gran Loggia propria, con riconoscimenti internazionali da parte dei supremi consigli degli Stati Uniti d'America e dei conventi mondiali dei supremi consigli. Il Grande Oriente d'Italia ha a sua volta riconoscimenti di carattere internazionale, non ha quello di Londra. Nel marzo 1862, appena eletto in gara con Giuseppe Garibaldi che gli contendeva la carica di Gran Maestro, il Gran Maestro Filippo Cordova, che era ministro delle finanze, amico di Cavour, scrive a Londra dicendo noi siamo qui, possiamo scambiare i garanti d'amicizia, Londra dice no, ci saranno contatti tra le segreterie. Vediamo poi quando stabilire una vera e propria unione. Avverrà nel settembre del 1972, 110 anni dopo, quando la Gran Loggia Unita d'Inghilterra riconosce il Grande Oriente d'Italia mentre era Gran Maestro Lino Salvini. Tornando a quel dopoguerra 1919 e seguenti, noi vediamo che nel giro di pochissimi anni la massoneria italiana, entrambe le obbedienze, entrambe le comunità, passano in un attimo da essere al centro da protagonisti della vita nazionale, all'autoscioglimento. All'indomani della Grande Guerra, Vittorio Emanuele III, tramite l'aiutante di campo, primo aiutante di campo Arturo Cittadini, ringrazia le massonerie per il concorso che i fratelli hanno dato alla vittoria. C'è un riconoscimento pubblico, a differenza di quello che era avvenuto negli anni precedenti, quando i massoni non erano stati accolti né ai funerali di Umberto I, assassinato a Monza il 29 luglio del 1900, né ai festeggiamenti per il cinquantenario del Regno all'altare della patria nel giugno del 1911. Invece in quel momento, nel 19, c'è un riconoscimento formale da parte dello Stato. Sembra quindi che la massoneria sia tranquilla. In realtà nel 1923 il Gran Consiglio, che era un organismo privato, non istituzionale, non pubblico, il Gran Consiglio del Partito Nazionale Fascista, in sintonia con il Presidente del Consiglio, non era ancora capo del governo, una carica che viene istituita dopo, Benito Mussolini, dichiara la incompatibilità tra fasci e logge. Per il Grande Oriente d'Italia è un trauma, perché c'era stata, non dico una cointeressenza, ma una certa vicinanza in una fase nascente del fascismo, quando il fascismo era, per dirla con Federico II di Prussia, un gran nulla, non aveva un programma chiaro, quindi era influenzabile nei modi più diversi. Ed è un trauma anche per la Gran Loggia d'Italia che stava reclutando, stava iniziando una serie particolarmente significativa di gerarchi del regime. Penso a Giuseppe Bottai, che era entrato nella loggia La Forgia di Roma fin dal 1921. Italo Balbo era affiliato a una delle loggie della Gran Loggia d'Italia da qualche anno. E poi si può andare avanti così, cioè ci sono ammiragli, figure di spicco. Il capo dei sindacati fascisti, Edmondo Rossoni, che si fa iniziare dopo la dichiarazione di incompatibilità. Arriveremo fino a Curzio Malaparte, che entra in loggia nel maggio del 1924, quindi all'indomani delle elezioni vinte dal Partito Nazionale Fascista del 6 aprile. Come mai tutti questi passaggi? Bene, perché si ritiene da parte di figure significative che la massoneria in realtà costituisca una riserva aurea per un paese che è in cerca della propria identità. E questo vale anche per l'indomani del concordato, cioè della firma dei patti lateranensi da parte del candidato Gasparri e di Benito Mussolini. Quando viene nominato ministro dell'educazione nazionale, per la prima volta il ministero che era stato della pubblica istruzione ha questa denominazione, viene nominato Balbino Giuliano, il quale era stato iniziato massone quando giovane docente universitario insegnava a Camerino. Poi aveva fiancheggiato i nazionalisti, fiancheggiato il fascismo, ma viene nominato a quella carica per arginare la clericalizzazione delle università in perfetta convergenza con Giovanni Gentile, il quale stava costruendo quel monumento della cultura italiana, un monumento laico che è la enciclopedia italiana, curando in particolare, mi avvio, curando in particolare la attenzione per le religioni. Chi è il curatore, il direttore generale per la storia delle religioni dell'enciclopedia italiana? Era Pettazzoni che era stato iniziato alla loggia 8 agosto di Bologna e se noi scorriamo l'elenco dei collaboratori dell'enciclopedia italiana vediamo che è strapieno di massoni, i quali poi che cosa fanno? Hanno cambiato idea? No, continuano a servire l'idea d'Italia, come fa un certo Alberto Beneduce, già grande oratore del Grande Oriente d'Italia, al quale Mussolini affida l'istituto per la ricostruzione industriale, l'IRI, e il riordinamento della Banca d'Italia. La dirigenza non si inventa, la dirigenza c'è e chi ha la responsabilità di governare deve rivolgersi alla dirigenza preparata. Come ha spiegato molto bene Guido Meri su un'opera fondamentale, a ben vedere la dirigenza degli anni 20-30 fino alle soglie dell'intervento dell'Italia nella Seconda Guerra Mondiale è fatta da persone che avevano fatto il liceo, siano laureati eccetera, avevano cominciato la carriera nel primo novecento. Uno diventa prefetto alla fine degli anni 30 dopo 20-30 anni di carriera attraverso tutti i vari gradi. Ecco il quadro che ci aiuta a capire come mai all'indomani della Seconda Guerra Mondiale ci sia stato il miracolo economico, perché in realtà c'era una dirigenza che arrivava dall'età giolitiana, che arrivava dal culto del senso dello Stato che era stato inculcato dalla massoneria di cui ho sinteticamente parlato. Nel dopoguerra e concludo, nel dopoguerra la massoneria in Italia ha avuto momenti di qualche fulgore, qualche presenza al scoprimento del monumento a Mazzini di Ettore Ferrari al Gianicolo e ha avuto fasi estremamente difficili. Pensiamo 1981 il falso scandalo della P2 che ha determinato caso unico nella storia di Italia la caduta di un governo partendo da una questione che è ancora dal punto di vista storiografico insoluta. Dal punto di vista dell'applicazione della giustizia è stata chiusa con la pronuncia della Corte d'Assisi di Roma che ha escluso da parte degli appartenenti alla P2 vuoi la cospirazione militare, vuoi la cospirazione politica anche perché una associazione in cui membri non si radunano mai che era il caso della P2 è come facevano a cospirare. Per cospirare bisogna essere almeno in due o tre invece in quel caso proprio non c'è nessuna riunione comune, non c'è nessuna azione dimostrata come cospirazione. Diciamo che in tutti questi anni la massoneria in Italia è stata un poco conosciuta, non abbastanza, malgrado tutti gli sforzi che ha fatto per divulgare la propria immagine, incoraggiare gli studi e così via, ma non è riconosciuta e cioè non ha un riconoscimento. In particolare non esiste la tutela del nome e quello è un punto fondamentale. Mentre in Francia dal 1901, più di un secolo fa, esiste una legge sulle associazioni che quindi ne tutela il nome, in Italia questo non c'è. Per cui esistono un grande oriente d'Italia con la sua sede che viene visitata da moltissimi cittadini anche per le iniziative che promuove, ma ce ne sono tanti altri che sono dei cosiddetti grandi orienti di qui, di là, di su, di giù, perché non esiste la possibilità di demolirli, di farli disconoscere pubblicamente. Lo stesso vale per la Gran Loggia d'Italia che è duplicata da una quantità di cosiddette piazze del Gesù e così via, quante sono tantissime. Questo crea una difficoltà nei rapporti internazionali, quindi è un problema anche delicato che in qualche modo prima o poi bisognerà affrontare. Ma, e chiudo veramente, purtroppo siamo ancora in una stagione piuttosto nebulosa, come dimostra la relazione della Commissione per la lotta contro le mafie e le altre stazioni criminali, l'ultima relazione ufficiale, quella non della legislatura appena terminata, che non ha pubblicato ancora gli atti, ha pubblicato solo un documento numero 23, ma è in redazione provvisoria. Quella della legislatura ancora precedente è la relazione firmata da Rosi Bindi, nella quale si dice che la massoneria è sostanzialmente segreta. Cosa vuol dire sostanzialmente segreta? È segreta o non è segreta? È un'associazione di segreti o è un'associazione segreta? Sono cose molto diverse. È un'associazione di ricerca? È un'associazione discreta? È un'accusa pesante. Per un'associazione segreta è vietata dalla Costituzione. Dire poi sostanzialmente cosa vuol dire un po' sì e un po' no? Siamo in questa situazione dove ancora una volta i problemi linguistici si ingarbugliano e creano confusione per quelli che cercano, da un punto di vista della ricerca storiografica, obiettiva di chiarire a se stessi e possibilmente di far conoscere e quindi di chiarire a quanti sono interessati ad approfondire l'argomento. Io sono ovviamente a disposizione per rispondere a domande, ma forse abbiamo tempi estremamente limitati perché tra pochi minuti bisognerà lasciare spazio al relatore successivo. Però sono qua per chi lo desideri.